Benvenuti in questo nuovissimo video di giochi assurdi! Bene, ho scaricato questo nuovissimo gioco, nuovissimo, nuovissimo, è veramente un gioco assurdo. Se non fosse assurdo non l'avrei scaricato. Sono già al diciassettesimo livello perché devo provarlo per vedere se era abbastanza assurdo. La missione sarà sopravvivere, sopravvivere in questo mondo, che ci sono altre persone, che sono due, che speriamo non facciano alleanza contro di me, che l'ultima volta l'hanno fatto. Maledetti! E devo riuscire a sopravvivere, speriamo, sì, speriamo vada tutto bene. Riuscirò a sopravvivere? Chi lo so. Dai, ci proviamo! Questo qua è già pure so. Ha ha, ho due cosi! Ti è mia, è vero, se cadi, muori esattamente. Nono, ti è cadito! Morto, uno. Dai, tu, cadi, anche tu. Ai, 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 ai. No, no! Oh, 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 oh! Sono già morto. Vabbè, non sono uscito. Allora, questo offline ha un ring. Vado, va. Ui, sono felice! Non so cosa è successo. Ok, credo di essere aumentato di livello. Mitragniatrice! Sì! Oh, no! Sono già caduto! Ma dai, sono già caduto, scusa No, è vero, io non mi so ancora a muovere bene In questo gioco, è un po' difficile L'omino blu, no, l'omino blu Sì, l'omino blu Ma hai detto, chi, cadi, ah, aia Non voglio cadere, ah No, aiuto, vai via, dai via Lasciami stare Ah, no, lascia, mi vado a prendere l'altra Se ce n'è, ah, uno è morto, perfetto Ah, no, no, no Ho caduto anch'io Aia La ridizione, mi vendicherò dell'omino Beh, nessun omino, perché sono stato io a cadere Se lo prendo, ah, la mitragliatrice, ce l'ho Ah, ah, ah Ah, no, devo prenderla, ah Ho la mitragliatrice, ha il potere di Mitragliamatorx Che è un omino che ha le mitragliatrici Ah, muori Sì, vai via, vado Ah, ah, no, finito i colpi Finito i colpi Sì, uno è morto Anche l'altro Come? Come è successo? Non ci credo Ce l'ho fatta Nooo, il ring E' assurdo sto gioco, ovviamente Ok, ci riproviamo nel livello 18 Andiamo Ui, ho una sedia E non ho paura di usarla Due sedie Non ho paura di usarla Chi viene qua Si affronterà col mitico Nino Panino Tu, uomino giallo Te le lancio se vuoi Ora ti lancio le sedie Uh, aspetta Posso aggrappare anche i Voglio aggrappare un filo Ah, sono uscito Nooo No, non è uscito Oh, ah, ah Sto rincautrato Uno è già morto Tieni Eh, vado a prendere se c'è un'arma Tu cadi, vai tu Tu vai su Aia, aia Aia, aia Aia No, vado a prendermi No Via, 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 via Via, via, via Via, via, via Via, via, via Voglio prendere l'arma io Devo sfondare il muro Iata Cosa sono? Nooo Nooo No, no, uno mi è caduto Ah, è morto da solo Perfetto Perfetto, è morto da solo Bravo, bravo Grazie Uh, un nuovo livello Le strisce Ah, sono in una strada, credo Uh, sono proprio in un Una seghe elettrica Credo di essere in un ponte Chi si avvicina No, la mia seghe elettrica Ah, eccola qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua, maledetto Ah, taxi Sono ancora vivo Ah, sono Jason Ah, oh, stavo credendo Ma dove era? Eccola là Quanti autobus Ah, anche lui è la seghe elettrica Ah, aiuto Sono ancora vivo Ah, no Ah, gli ho rubato la seghe elettrica Ah, soldi Soldi, soldi, soldi Ah, prima che mi c'è la taxi Soldi, soldi Che è successo? Ho vinto Come? Ha schiacciato una macchina Che è successo? I taxi che sono veramente assassini No, una balestra Una balestra Questa sarà l'ultimo video L'ultima battaglia E finirà il video Credo Ah, una balestra Balestra voglio Balestra Qua ora ti riduco in un corpo Uno scorpostino Non so parlare Ah Vieni Ah, vi sto riempendo di frecce Sei un porcospino Credo di me sia Si dica Ah, sei diventato un porcospino Ah Wow, wow E' già caduto Si è vinto Si già Vabbè Con la vincita di questo orso Strambo Finisce il video Ciao Ci vediamo in un nuovo video Ricordatevi di iscrivervi Nel canale Ciao